ci siamo partiti cavalli della terza corsa del pomeriggio parte male Miracle Way ed è quello che parte peggio insieme allo stesso Bridget Tukabeir davanti il più veloce è Le Girl che ben presto si prova si trova al comando anche Dutch Schaffer ha accettato la partenza con la giubba bianca e cap e rossa si posiziona subito in seconda in terza posizione con la giubba blu e le maniche rosse troviamo Finisterra al cui esterno galoppa Stolen Glory andiamo a cercare uno dei più attesi Dumblay riconoscibile dal mantello grigio che si è posizionato proprio sulla schiena di Stolen Glory in seconda linea dietro a questi troviamo anche la chance di escursionista all'interno c'è Royal Fontaine Klimt Foundation per corsia esterna e si fa sotto anche Because the Night della partita anche Scrum Master e poi i due in fondo al gruppo che sono appunto citati in precedenza Bridget Tuca Beir e ancora Miracle Way cavalli che vanno ad affrontare l'ultima parte della curva e dentro indirittura sempre nel medesimo ordine Lo Girl a indicare la via Dutch Schaffer che si getta all'inseguimento al suo esterno in terza posizione c'è Finisterra provano a fare lo sforzo anche Stolen Glory e Dumblay che si avvicina tra i cavalli questo è lo scenario quando mancano 400 metri da percorre Lo Girl è sotto la pressione costante interna da parte di Finisterra che però deve dare il cambio di mancia anche Dutch Schaffer della partita Dumblay che è dietro a questi con il pesone tre cavalli che si staccano in lotta adesso anche Dumblay si aggiunge alla lotta che però subisce quasi un cross e quindi deve svoltare all'esterno Dutch Schaffer allora ha preso il tempo a tutti nei confronti di Finisterra ci prova ancora Dumblay che deve superare Lo Girl nel tratto conclusivo Dutch Schaffer che ritrova la forma e viene a vincere con Germano Marcello in sella per il secondo terzo e quarto posto c'è fotografia ma io rivedrei soprattutto gli ultimi 150 metri perché Dumblay aveva preso bene i giri non ha trovato percorso pulito nonostante ciò è finito forte eccolo qui questo è il momento in cui gli viene precluso un barco e allora deve fermare spostare all'esterno mentre Dutch Schaffer si stava involando verso la vittoria Dumblay si mette sulle gambe ma tardivamente quando ormai i buoi erano scappati dalla stalla ed in particolare Dutch Schaffer con Germano Marcelli per Maya Salvioni secondo posto credo sia ancora Finisterra Lo Girl e poi Dumblay chiaramente tutto rimesso nelle mani del giudice d'arrivo almeno per quanto riguarda questa percezione Dutch Schaffer invece ottiene la vittoria numero 8 in carriera quota conclusiva di 12 è tutto Grazie a tutti! Grazie. Grazie.